In provincia di Belluno si respira aria di elezioni, manca infatti meno di un mese alle amministrative che coinvolgeranno 12 comuni del territorio. Si voterà il 12 giugno ad Auronzo, Dicadore, Belluno, Cesio Maggiore, Cortina d'Ampezzo, Falcade, Feltre, Fonzaso, Lamont, Riva Monte a Gordino, San Gregorio, Nelle Alpi, Soverzene e Tambre. Nel capoluogo si sfideranno tre candidati a contendersi la carica di primo cittadino Oscar de Pellegrin, mentre per il centro-sinistra le opzioni saranno due, Lucia Olivotto e Giuseppe Vignato. A Feltre la sfida sarà tra Addis Zatta, Viviana Fusaro e Nadia Forlin, presentata anche una lista a supporto del candidato Paolo Serrangeli. Tra i primi a depositare ufficialmente le proprie formazioni, anche Cortina d'Ampezzo, nella regina delle Dolomiti si sfideranno il sindaco uscente Gianpietro Ghedina, Roberta De Zanna, Gianluca Lorenzi e Roberto Pompanin. Sfida al quorum Maccesio Maggiore, con l'unica candidatura di Carlo Zanella, così come arriva a Monte a Gordino, nel quale ridiscende in campo Giovanni De On e a Tambre con Sara Bona, mentre a San Gregorio, Nelle Alpi, gli sfidanti saranno tre, Michela Cagliada, Nicola Vieceli e Francesca Marotta. A Falcade la sfida sarà a due, tra Mauro Salvaterra e Axel Pellegrini, così come a Soverzene, dove si terranno testa il sindaco uscente Gianni Burigo e Adriano Zoldan. Alla scelta sarà tra tre candidati, si tratta di Corinna Largo, Gino Pante e Loris Maccagnà, mentre Auronzo va al voto con due proposte, ossia Tatiana Paesbecker e Dario Vecellio. Infine candidato unico per il comune di Fonzaso, si tratta di Cristian Pasa.